Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo lieti di proporvi in vendita uno splendido appartamento situato in una zona semicentrale di Monopoli, precisamente in via Baione. Questa elegante proprietà, apposta a un piano intermedio, vanta una triplice esposizione che garantisce luminosità e eriosità in ogni ambiente. Entrando, siamo accolti da un ampio e luminoso salone, che offre accesso a un grande balfone, perfetto per momenti di relax all'aperto. A destra troviamo una spaziosa cucina abitabile, anch'essa dotata d'eccesso a un altro balcone, ideale torcine stili all'aperto e per voi dire di una piacevole staff. Dal disimpegno accediamo alla zona notte, dove a sinistra troviamo due pollienti camerette, mentre a destra una grande camera da letto con balcone privato. La zona notte è servita da un bagno padronale e uno di servizio, entrambi rifinititi con materiali di alta quantità. L'appartamento è dotato di impianto di climatizzazione, cappotto termico per un ottimo isolamento e risparmio energetico, tapparelle elettriche per un comfort moderno e termo autonomo per una gestione indipendente del riscaldamento. Completa la proprietà un comodo box auto, che offre praticità e sicurezza per il parcheggio. Questa proprietà rappresenta una soluzione abitativa ideale per chi desidera vivere in un ambiente elegante e confortevole, senza rinunciare alla comodità di una posizione di semicentrale. Non perdete l'occasione di visitare questo magnifico appartamento e di apprezzare tutti i dettagli che lo rendono unico. Contattaci per ulteriori informazioni e per prenotare una visita. Ciao, alla prossima!